Era già stata annunciata una partecipazione di atleti ai massimi livelli, ora a discrizione conclusa la sorpresa di un numero di adesioni che supera le più rosee aspettative. Nel paddock della sesta fermata al Poetto di Cagliari oltre 500 persone, tra staffa, accompagnatori ed agonisti 220, di cui 40 donne provenienti da 38 nazioni di tutti i 5 continenti, e poi un piccolo esercito di giornalisti, fotografi e truppe televisive. Il campionato mondiale assoluto di kite surf, organizzato dallo Yacht Club di Cagliari, mette la Sardegna ancora una volta al centro dell'attenzione internazionale, in un momento particolarmente importante per questo sport, nato appena 15 anni fa, e che da pochi giorni è stato inserito fra le discipline olimpiche a partire dai prossimi giochi in Brasile. Sono tutti i campioni a livello mondiale, sono rappresentati in un'enormità di nazioni, questo nonostante la Sardegna, e questo io lo rimarco sempre, sia fortemente banalizzata soprattutto per i trasporti. La Sardegna potrebbe far diventare questi avvenimenti un fattore importante anche economico e non soltanto sportivo. Oggi il campionato al via con la Welcome Race e la conclusione è prevista per domenica, mentre l'organizzazione pensa già al futuro. Sarà a Cagliari nel mese di ottobre ogni anno una regata che ha valore di preolimpica per le Olimpiadi, quindi verranno tutti i migliori, quindi l'avvenimento del surf, del kite surf in Italia si svolgerà a Cagliari.